Buon sabato, buona battaglia più che altro a medici, infermieri, cittadini, volontari in prima linea. Sono stato in contatto tutt'oggi con amministratori locali, con volontari, con i governatori che ormai hanno il loro ufficio come casa e ci vivono giorno e notte. Qualche giornalista ironizza e io ci tengo a ringraziare Attilio Fontana, Luca Zaia, tutti i sindaci, tutti gli amministratori di qualunque colore politico, gli uomini e donne della protezione civile, dei vigili del fuoco, del 118, medici e infermieri che stanno lavorando senza sosta da giorni, coordinati da persone eccezionali. Qualcuno li indaga, qualcuno li biasima, qualcuno perfino fa ironia. Io adoro la libertà sui social, la libertà in rete, non cancello quasi mai anche commenti se non hanno bestemmie, se non hanno insulti volgari, se non hanno minacce, però ironizzare anche sulla salute, su quello che sta accadendo in questi giorni, su una malattia che è partita dall'altra parte del mondo ed è arrivata in casa nostra, ma purtroppo stando ai dati, quando si parla di casa nostra si parla di Lombardia, si parla di Lazio, si parla di Sicilia, si parla di Veneto, quindi se c'è un momento in cui questo paese deve trovare orgoglio, unità e compattezza è questo. Noi come Lega, seppur dall'opposizione, stiamo riempiendo il governo di proposte, di richieste, di suggerimenti, di appelli a nome delle tante imprese, delle tante aziende, anche quelli dimenticati, pensiamo al periodo di carnevale che di solito è un periodo di festa, ma di lavoro, pensiamo allo spettacolo viaggiante, pensiamo alle palestre, pensiamo alle associazioni sportive dilettantistiche, tutti oggi a occuparsi di Juventus-Inter, parte il fatto che non capisco perché occorra rimandare alcune partite di alcuni mesi e altre farle giocare. Dal mio punto di vista è l'ultimo dei problemi il campionato di calcio evidentemente, però è un segnale, è un simbolo di partenza, di unità, di amicizia, di normalità, di serenità. Alcuni giocano, alcuni non giocano, alcuni a porte aperte, alcuni chissà quando. Ecco, coerenza, ci si aspetta da chiare responsabilità di governo in questo momento, ripeto, al di là dei colori politici, compattezza, competenza, quindi ascoltare medici, virologi, biologi, scienziati e poi chi è al governo ovviamente deve intervenire per aiutare immediatamente ed economicamente chi è in difficoltà. Pensate che a dire che quello che ha fatto il governo non basta non è Matteo Salvini, non è la Lega, ma sono degli stessi esponenti del governo. Penso al sottosegretario Buffagni dei Cinque Stelle che ha appena scritto su Facebook quello che si è fatto non basta. Ebbene, se lo dice la Lega, se lo dice Salvini, è sciacallaggio, è cattiveria, bisogna stare zitti perché Conte ha sempre ragione. E lascio giudicare a voi il fatto che Conte abbia o non abbia sempre ragione. Ma se le critiche arrivano anche dai sindacati, dalle industrie, dai negozianti, dagli artigiani, dalle partite IVA, dagli sportivi, dai liberi professionisti, vuol dire che bisogna fare di più e più in fretta. Vuol dire che l'emergenza sanitaria è, non dico sotto controllo perché ricordo le parole del Presidente del Consiglio di qualche giorno fa, tutto sotto controllo e poi stiamo raccogliendo i cocci. Però l'emergenza è in mano ai sanitari, ai medici, agli infermieri che sono degli eroi. E ripeto, spero che la Procura di Lodi e le altre procure che in Italia gli avessero in testa di indagare questo ospedale, questo medico, questo dirigente o questo infermiero, se lo togliessero dalla testa perché andranno premiati, non puniti, inseguiti o indagati. Detto questo, sull'economia la responsabilità è in mano al Governo e al Parlamento. Settimana scorsa ci hanno tenuti impegnati in Parlamento a parlare di intercettazioni e di prescrizioni. Speriamo di poter parlare solo di sostegno alle imprese. Qua c'è un danno economico di almeno 10 miliardi di Euro e non stiamo a giudicare chi doveva controllare all'inizio e non ha controllato. Guardiamo avanti. Quindi qua c'è da dare un sostegno immediato a tutta Italia. Quello che io non capisco dei primi interventi del Governo, e vorrei che a voi fosse chiaro, perché ascoltando la maggioranza dei telegiornali e leggendo la maggioranza dei giornali non si capisce perché non lo raccontano, i pochi interventi economici che hanno preso, sospensione dei pagamenti, dei pignoramenti, delle cartelle esattoriali, degli adempimenti fiscali, sono solo per i pochi comuni della zona rossa. Ma io vorrei che il signor Conte e i signori ministri capissero che l'emergenza economica non riguarda quel piccolo numero di comuni in provincia di Lodi o in provincia di Cremona o in provincia di Padova o in provincia di Bergamo, ma riguarda tutta Italia, perché stanno soffrendo i commercianti in tutta Italia da nord a sud, gli albergatori di tutta Italia, i ristoratori, gli artigiani, i trasportatori, i taxisti. Ditemelo voi amici romani, c'è Fiumicino quasi deserta e quindi bisogna intervenire subito per bloccare subito gli adempimenti fiscali, ma non di 30 mila persone, di 60 milioni di italiani. È un momento eccezionale, è un momento di emergenza sanitaria ed economica. In un momento di emergenza bisogna agire in fretta e per tutti. Non esiste rimandare per uno o due mesi il pagamento delle tasse solo in quei territori per poi peraltro chiedere tutto. Attenzione all'uso delle parole, lo dico a voi amici, lo dico a te Aurora, Andrea, Andrea, Franco, Moreno, perché purtroppo abbiamo una classe giornalistica in Italia che lasciamo stare e va bene così, perché ne faccio parte anch'io e quindi mi ci metto. Però il problema non è sospendere i pagamenti per due mesi e poi ad aprile chiedere tutto come se nulla fosse accaduto. Il problema è esonerare dal pagamento di tributi, rottamazioni, tasse, cartelli ed equitalia, imprese che sono ferme, che rischiano di fallire e di licenziare. Solo nel mondo delle cooperative, e siatemene testimoni, ci sono almeno 100 mila persone, secondo l'allarme lanciato dal mondo delle cooperative italiane, quelle vere, quelle sane, quelle sociali, quelle che aiutano i disabili, i bimbi, gli anziani. Ci sono 100 mila posti di lavoro a rischio, 100 mila, in tutta Italia, non solo a Codogno, in Lombardia. E a proposito un enorme abbraccio a chi vive rinchiuso in casa ormai da dieci giorni, quasi, un abbraccio a quelle mamme, a quei papà, a quei bimbi, a quei nonni. Però il problema economico è in tutta Italia. bisogna dare una mano agli imprenditori siciliani, laziali, sardi e piemontesi, non solo a qualche manciata di persone che vive nella zona rossa. I liberi professionisti sono nel caos, perché se le aziende non producono, non lavorano i commercialisti, non lavorano gli architetti, i geometri, gli ingegneri, gli avvocati, non lavorano i taxisti, non lavorano i commercianti ambulanti, non lavorano i camionisti. A proposito, io sto prendendo nota di quei paesi europei al mondo che adesso stanno dicendo non voglio gli italiani, non voglio i prodotti italiani, non voglio i formaggi italiani, non voglio gli studenti italiani, non voglio i camionisti italiani. Facile, facile parlare di solidarietà, generosità, accoglienza, inclusione. Facile trattare l'Italia come il campo profughi d'Europa e poi quando c'è una difficoltà dire no, fate da soli. È questo lo spirito solidale dell'Unione Europea? È per questo che diamo 5 miliardi di euro all'anno come comunità italiana all'Unione Europea? Per sentirsi dire fate voi? È per questo che abbiamo dato 6 miliardi di euro alla Turchia per controllare i confini e bloccare l'ingresso di immigrati all'interno dell'Unione Europea? E adesso i turchi dicono no, liberi tutti, avanti tutti, abbiamo scherzato. Passare per buoni sì, passare per fessi no. E ce la dobbiamo fare come Italia e come italiani. L'abbiamo capito come la storia insegna. Ne abbiamo la possibilità, ne abbiamo l'energia, ne abbiamo l'intelligenza. I nostri imprenditori, i nostri tecnici, i nostri medici, i nostri ragazzi, i nostri operai sono i migliori al mondo. Da un male vediamo se si riesce a trarre qualche, non dico qualche bene, evidentemente, però è questo. Quindi l'appello al governo, lo ripetiamo da giorni, inascoltati, sospensione dei tributi, dei pagamenti, delle tasse, delle cartelle di Equitalia, dell'esecutività, dei pignoramenti, in tutta Italia, perché stanno soffrendo. E correggetemi se sbaglio, e magari o il signor Conte o il signor Casalino stanno guardando questa diretta e stanno leggendo i commenti di questa diretta perché qualcuno è ossessionato da me, dalla Lega e qualunque cosa accada è sempre colpa di Salvini. Anche adesso che siamo all'opposizione qualcuno riesce a dire che il virus è colpa di Salvini e la situazione economica è colpa di Salvini, quando ormai è mesi che governa questo paese, ahimè qualcun altro, però partite IVA stanno soffrendo in tutta Italia, i bar e i ristoranti, ahimè, senza un motivo, sono mezzi vuoti in tutta Italia. E io faccio un appello agli italiani, nei prossimi mesi, perché sperando nel buon Dio l'emergenza sanitaria finisca nelle prossime settimane rapidamente, l'emergenza economica invece avrà bisogno di tempo per essere recuperata, teniamo in Italia i nostri soldi. Stiamo qua, compriamo italiano, consumiamo italiano, leggiamo italiano, mangiamo italiano, vestiamo italiano. Se qualcuno ha qualche euro per fare qualche ora o qualche giorno di vacanza in Italia, adesso ci respingono dalle Mauritius a Capoverde e facciamo a meno. Abbiamo un mare stupendo, si avvicinano la primavera, la Pasqua e l'estate, il mare di Calabria, il mare di Sardegna, il mare di Sicilia, abbiamo delle montagne incredibili. Io sono qua ancora per qualche ora perché poi domani ricomincerò ad ascoltare, a incontrare italiani partendo dall'Umbria, domani sarò alle 18 a Orvieto e ora di cena a Todi e poi ancora in Umbria lunedì mattina, poi a Roma, ovviamente per seguire il momento che in Parlamento spero tornerà a parlare di aiuti alle imprese. Però abbiamo le montagne più belle, i laghi, i fiumi, la cucina migliore al mondo, i profumi, i sapori, dai formaggi ai salumi, alla frutta, alla verdura, agli agrumi. Magari in questo momento qualcuno che fino a qualche giorno fa diceva che importiamo in Italia l'olio di qui, le arance di là, il vino su, il formaggio giù e la carne agli ormoni dal Sud America e il grano al glifosate dal Canada e l'olio dalla Tunisia e una marea di prodotti cinesi. Polemiche e polemiche su Luca Zaia, ma averne di governatori come Luca Zaia, che sta affrontando come Attilio Fontana l'emergenza dal primo minuto con pugno di ferro e idee chiare. Qualcuno si offende, gli passerà, perché prima viene la salute della nostra gente. Quando parlo di italiani parlo anche degli splendidi, tantissimi straordinari immigrati, donne, uomini che sono arrivati in questo paese tanti anni fa con i documenti in regola, che pagano le tasse, che rispettano la nostra storia, la nostra tradizione, che mandano i figli a scuola, siete mie sorelle e miei fratelli. E quindi è questo, riscoprire l'orgoglio di vivere nel paese più bello e che in futuro tornerà, e sono sicuro di questo, essere il più laborioso, il più felice e il più ricco come eravamo qualche decennio fa, quando i nostri nonni hanno creato il miracolo economico, quando i nostri genitori ci hanno lasciato quello che noi oggi abbiamo ereditato e abbiamo il dovere di lasciare i nostri figli intatto come territorio, come bellezza del territorio, ma anche come valori, come valori morali e come valori economici. Quindi il signor Conte dovrebbe ogni tanto anche ascoltare chi è all'opposizione, perché i primi provvedimenti presi dal governo sono veramente bolle di sapone e vengono contestati, ripeto, non solo dal mondo dei produttori, ma anche da alcuni stessi esponenti del governo, dei 5 Stelle, del PD, quindi fare bene e fare in fretta, non chiediamo miracoli, però chiedere, anzi io dico pretendere, la sospensione dei pagamenti delle scadenze fiscali nelle prossime settimane è buonsenso, non è salvinismo, sovranismo, fascismo, populismo. Poi leggo in questi giorni surreali ipotesi di governi col PD, con i 5 Stelle, con Renzi, ma io vorrei sapere i giornalisti prima di scrivere a che cosa pensano. Un conto è dire che la Lega è a disposizione con le sue idee, con i suoi uomini, con le sue donne, con i suoi amministratori locali, con la sua esperienza di buon governo per dare una mano a questo paese. Un conto è pensare di andare al governo con Conte, con Di Maio, con Renzi, con Tizio, con Caio. Dai, siate seri. E quindi, vabbè, fortunatamente gli italiani ormai hanno capito che l'informazione purtroppo passa sempre meno dai giornali e dai telegiornali e passa sempre di più dall'informazione diretta. E quindi io conto su di voi e voi con tutti i miei limiti contate su di me. Qualche due ore, oggi pomeriggio, mi sono concesso due ore, e una parte di queste due ore le sto dedicando con gioia a voi, per provare a pescare qualcosa che però non sono stato in grado di fare. Quindi è stato proclamato lo sciopero delle trote sul fiume Sarca, qua in Varrendena. Scherzi a parte, avevo bisogno di staccare per qualche minuto, perché ovviamente il telefono è bollente, le emergenze sono costanti, i letti di terapia intensiva in Regione Lombardia sono occupati a più del 95% e quindi bisogna essere sul pezzo. Io ripeto, ringrazio chi sta lavorando senza sosta e viene ingenerosamente attaccato dalla sinistra o da qualche giornale di sinistra o da qualche trasmissione di sinistra. Ieri mi avete scritto, io non sto guardando la televisione perché quando ho qualche ora da dedicare a mia figlia e anche un po' a me stesso, permettetemi questo egoismo, qualche ora ogni tanto anche a me stesso a riposare, a rifiatare, a ossigenare, a godermi il bello del creato che il buon Dio, il buon Dio, sì, il buon Dio, ci mette a disposizione e la televisione la guardo poco e male. Mi hanno detto che ieri c'erano le sardine dalla De Filippi e pensare che io amici lo guardavo fin da quando ero ragazzino, ma per vedere ragazze e ragazzi in gamba che avevano voglia di studiare, aspiranti ballerini, cantanti, artisti, attrici e siamo arrivati alle sardine anche ad amici di Maria De Filippi. E vabbè, ragazzi, è un segno dei tempi che cambiano. Fortunatamente in democrazia possono ritardare il momento del voto, ma non possono cancellare il diritto al voto a milioni di italiani, anzi qualcuno voterà anche prima. Il 19 aprile ci saranno le elezioni regionali in Valle d'Aostra, il 3 maggio ci saranno le elezioni in tanti comuni del Trentino, compreso Trento, Rovereto, Arco, Riva del Garda, Pinzolo, dove ho la gioia di passare ancora qualche ora prima di rituffarmi nel mondo da domani pomeriggio in avanti e poi ci saranno il voto in Liguria, in Veneto e c'è qualcuno che sta usando il virus per attaccare Zaia e la sanità del Veneto che insieme a quella della Lombardia sono le prime in Italia per numeri, per servizi, per pazienti, per qualità, arrivano da tutto il resto del mondo per farsi curare negli ospedali del Veneto e della Lombardia e c'è qualche poveretto che sta usando il virus per provare ad attaccare Zaia o Fontana, vi va male ragazzi, riprovate un'altra volta, magari con temi più seri e sarete più fortunati e poi ci sarà il voto in Toscana, nelle Marche, c'è una guerra che è andata per giorni tra il governatore del PD e il governo del PD, il governatore che voleva chiudere e il governo che voleva aprire, della stessa parte politica, mettersi d'accordo perché non si scherza sulla pelle e sulla salute dei marchigiani, poi la Puglia, poi la Campania e poi voi, e poi voi, finché fare politica mi darà la possibilità di cambiare in meglio la vita delle persone, oggi al Parco Giochi a Pinzolo, mentre ero con mia figlia in bicicletta, mi ha fermato la signora e mi ha detto Salvini ti devo dire solo una cosa, grazie, grazie per quota 100 e quel grazie per quota 100 con la figlia che era di fianco e che mi ha detto grazie perché mi hai restituito mia mamma e una nonna ai miei figli, per me vale 6.000 polemiche, vale gli articoli di insulto del Fatto Quotidiano, del Foglio, della Repubblica, del Corriere della Sera, mamma mia che tristezza, una volta il Corriere della Sera era il giornale di Milano, dell'Italia, il giornale attendibile, il giornale delle grandi firme, delle grandi testimonianze, cambiano i tempi, però io finché la passione c'è e c'è, finché c'è gioia, finché c'è cuore, finché c'è questa splendida comunità che ha voglia di riprendere in mano le sorti di questo bellissimo paese, io non mi fermo, non mi fermo, possono indagarmi, possono processarmi, possono insultarmi, possono minacciarmi, finché c'è Margherita, finché c'è Gigi, finché c'è Silvia, finché c'è Gian, finché c'è Elsa, finché c'è questo splendido popolo e l'Italia è un grande paese, ne abbiamo superate di ben peggiori di emergenza rispetto al coronavirus. Ripeto, se qualcuno a livello centrale, a livello di governo, e lo dico sottovoce, senza spirito polemico, perché ormai è andata, con i sé non si fa la storia, ma se qualcuno ci avesse ascoltato e fin da gennaio avesse fatto i controlli dovuti, oggi non avremmo scuole chiuse, fabbriche chiuse, negozi chiusi, palestre e cinema chiusi, ma guardiamo a quello che bisogna far domani, aiutare economicamente chi non ce la fa, gente che sta pensando di licenziare, penso anche agli albercatori di Venezia, a quelli di Milano, a quelli di Roma, a quelli di Palermo, a quelli della Puglia, c'è gente che sta dall'estero disdicendo le vacanze estive, di Pasqua e per giugno, luglio e agosto, ragazzi stiamo qua, stiamo in questo splendido paese, guardate che acqua, che profumo, che bellezza, che pulizia, siamo un paese che ha fatto cose straordinarie, ha portato nel mondo bellezza, ricchezza, gioia, lavoro, scoperte scientifiche e pensiamo al rosso della Ferrari e pensiamo alla moda, pensiamo al mobile, pensiamo alla ricerca, ai nostri ricercatori, alle nostre ricercatrici in giro per il mondo, orgoglio italiano, è questo l'appello che vi faccio. Poi al governo noi porteremo tutte le proposte che ci arrivano da voi, dai nostri sindaci, dai nostri assessori, dei nostri governatori, sperando che il signor Conte e chi per lui ogni tanto ci ascoltino, perché almeno avessero un'idea loro e facessero di testa loro, vabbè. Però noi continuiamo testardamente e concretamente a portare proposte, a portare sui tavoli di Roma la voce degli agricoltori, dei commercianti, degli architetti, dei liberi professionisti, degli artigiani, delle partite IVA, degli autotrasportatori, degli artisti, di tutti quelli che stanno soffrendo in questo momento e fra qualche settimana e qualche mese torneremo più forti di prima con un'esperienza che ci servirà, con qualche amico in più e qualche nemico o qualche avversario o qualche ingrato in più di cui tener conto, ma abbiamo il dovere di fare tutto il possibile perché i nostri figli continuano a vivere nel paese più bello del mondo, dove però il lavoro torni a essere al centro. Il lavoro non vuol dire sfruttamento per 3 euro all'ora, questo non è lavoro. Quindi rimettere al centro la stabilità, la famiglia, i valori, le radici e l'opportunità di crescere in questo splendido paese. Quindi chiudo, come sto facendo da giorni e giorni con un enorme grazie, cubitale, gigantesco, medici, infermieri, primari, volontari, operatori del 118, del 112, vigili del fuoco, poliziotti, carabinieri, finanzieri. Penso alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria e delle condizioni in cui lavorano in mezzo a delinquenti di ogni genere che in questo periodo sono ancora più violenti e più arroganti. I ragazzi sono con voi, siamo con voi e quando torneremo al governo una riforma sia della polizia penitenziaria che della polizia locale sarà fondamentale e poi vi dico grazie perché la forza che ci date voi non ce la da nessuno. Poi dico grazie soprattutto a lui che è in cielo, che ci protegga, che guardi un po' a questa Italia martoriata, diffamata, abbandonata, massacrata, dileggiata. No, meritiamo tutto. Grazie, se voi non mollate io non mollo. Sono venuto qua a provare a prendere una trota ovviamente poi per rilasciarla, per rilasciarla. Però non era giornata, però il silenzio di questo fiume, il profumo, la bellezza di queste montagne. Quando sono in montagna mi rendo conto che Dio esiste perché altrimenti non sarebbe potuto accadere una cosa del genere. E la bellezza di parlare con voi, che nessuno ci potrà mai togliere. Quindi se voi non mollate io non mollo. Grazie, grazie e grazie ancora.